Mi chiamo Antonio Micael Zaccheo e sono l'export manager della Carpineto. Sono Caterina Sacchet e sono l'enologa dell'azienda. Quello che rende unico il nostro vino è il fatto che viene prodotto da due famiglie, la famiglia Sacchet e la famiglia Zaccheo. Siamo a Duda, una frazioncina di greve e inchianti, e lavoriamo con ogni famiglia specializzandosi in un settore. La famiglia Sacchet nella produzione, noi nella commercializzazione, facciamo tutto senza consulenti esterni, per cui facciamo veramente uno stile unico, molto rappresentativo del terroir di Duda. La nostra etichetta è speciale perché è uno dei marchi storici del Chianti Classico. È dal 1967 che produciamo il vino. In un calice si racchiude storia, cultura. Credo che per ogni giorno, per noi, è una sfida. Il vino non è soltanto quel bicchiere e quel prodotto che si versa nel calice, ma è un'evoluzione che cambia ogni giorno e poi crea emozioni.